Il Po è arrivato a lambire alcune strade secondarie a ridosso della Tana del Lupo. La situazione attuale è alle 10 del mattino di oggi, lunedì. Da stamattina alle 2, stanotte alle 2, ha fatto 6 metri sopra lo zero. Abbiamo dovuto spostare le barfie e tirarle su perché la golena si alza, è più bassa. Adesso speriamo che mantenga perché se da due giornate di sole dovrebbe calare.